GF VIP 7, Pelizzon su Luca Onestini, maturità riusciamo a non perderci fuori. Nella puntata di lunedì 27 marzo 2023 del GF VIP 7, Luca Onestini è stato eliminato dal gioco e ha dovuto abbandonare la casa. A sentire la mancanza dell'ex inquilino, Enichita Pelizzon, la modella influencer inoltre ha lanciato una sorta di appello inconfessionale nella speranza di poter rivedere l'extronista bolognese una volta terminato il reality show di Canale 5. Nel frattempo Pelizzon si è lasciata rincorare dalla compagna d'avventura Milena Miconi. C'è un po' di malinconia, ha esordito così Enichita Pelizzon provando nostalgia per Luca Onestini dopo la sua uscita dal GF VIP 7. Mi manca la sua vitalità, il suo prendere in giro, ha poi aggiunto la modella inconfessionale, parlando dell'ex coinquilino. Poi Pelizzon si è confidata con Milena Miconi, spiegando le proprie intenzioni con Onestini fuori dalla casa delle reality, mi piacerebbe vederlo per un caffè. L'influencer friulano classe 1994 è infine chiusato così il suo sfogo, spero che con maturità riusciamo a non perderci fuori. Dopo aver consolato l'amica Nikita Pelizzon, Milena Miconi ha espresso la sua opinione inconfessionale in merito al suo rapporto con Luca Onestini. Sarà pure libero di innamorarsi, ha spiegato l'attrice romana, prendendo le difese dell'inquilina friulana 29enne. L'importante è che lei capisca che se questo sentimento non è ricambiato, non potrà andare oltre l'amicizia. Ha infine concluso Miconi, parlando di Pelizzon e Onestini. Nelle scorse ore diversi telespettatori su Twitter hanno commentato le dichiarazioni di Nikita Pelizzon su Luca Onestini. Nella speranza di recuperare il rapporto, io malinconico perché non mi capacito come Nikita ancora non capisca che Onestini la solo illusa è usata ai fini del gioco per consensi eccetera. Io devo parlare con lei ora e subito, ha scritto un qualcuno sui social. Sconvolta dal day team e ancora su Nikita e l'innamoramento per Onestini, questa è la linea autorale scelta. La vogliono far vincere, ha cinguettato qualcun altro. Ricordatevi che Nikita non è mai stata visionaria. Poi c'è chi ha inventato ma lei è sempre stata coerente e ha infine twittato un utente. Pubblicando un video che ritrae i più bei momenti vissuti da Onestini e Pelizzon nella casa. C'è poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând, nici un curcubeu. Da' ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă spate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE!